Quanto riguarda la politica nazionale, segretario? Aspetti, fagli prima a cominciare l'audizione di Occhi. Io sono molto soddisfatto perché sta emergendo che ho protetto l'Italia e gli italiani da ministro. Spero che finisca quanto prima questo teatrino della compravendita dei senatori e dei litigi fra Conte e Renzi per tornare a proteggere gli italiani. E quindi spero che gli italiani possano esprimersi quanto prima o quantomeno che sia un centrodestra che torni protagonista. Abbiamo dimostrato buon senso e responsabilità e amore per gli italiani anche all'opposizione facendo approvare tante norme a favore delle famiglie e delle imprese. Da settimane c'è un governo fermo, litigioso, confuso, incapace. Non si può andare avanti così in un momento in cui c'è un piano vaccinale fermo, in cui non arrivano cassa integrazione, non arrivano rimborsi alle imprese. Le scuole aprono e chiudono a seconda delle province, a seconda delle settimane. Abbiamo voglia di fare, di aiutare, di curare, di proteggere, di correre. Ringrazio il giudice che ho trovato lungo la mia strada perché nei giorni dei Palamara che svelano il volto peggiore della magistratura politicizzata ho trovato un giudice che ha approfondito, che ha letto, che ha capito, che ha compreso e quindi fortunatamente quando ci occuperemo di riforme della giustizia potremo contare anche sulla collaborazione di tanti magistrati e uomini di legge per bene. Il segretario, alla sua apertura, ieri ha utilizzato delle parole che sono piaciute all'interno del centro-destra probabilmente, dicendo mettiamo da parte Conte e poi si discute di tutto il resto. Cioè la Lega apre all'ipotesi di un governo istituzionale con tutti dentro o rimangono sempre le elezioni, l'obiettivo primario? Come posso pensare a un governo tutti dentro quando il PD vuole cancellare quota 100 che abbiamo fatto noi, quando il PD cancella i decreti sicurezza che abbiamo fatto noi, quando noi oggi abbiamo presentato una proposta di legge per tagliare l'IVA, l'IRA e l'IMU e nei progetti del PD c'è la revisione del catastro per aumentare l'IMU. Per serietà io non vado al governo a tutti i costi per scaldare una poltrona sotto il sedere, quindi la via maestra è la parola agli italiani che hanno sopportato tanto, io direi troppo, vedendo le scene imbarazzanti di questi giorni. L'unica alternativa è un governo serio a guida centro-destra. che metta al centro il lavoro, la crescita, lo sviluppo, la cura, la scuola, la salute. È chiaro che se io voglio aprire tutti i cantieri fermi, se io voglio la tavola dorsale adriatica, il ponte sullo stretto di Menzina, la gronda di Genova, la pedemontana, i termovalorizzatori, è difficile farlo con i signor no di professione. Quindi quelli che parlano di governi di salvezza nazionale spesso pensano alla salvezza della propria poltrona. O c'è un governo serio che si dà alcuni punti da portare avanti e li fa, o se no io al governo con Zingaretti, Renzi, Di Maio non vedrei cosa potrei farci. Però il governo di unità nazionale ne ha parlato, diceva anche il senatore Vitani, che ci ha ripensato ad appoggiare i conti perché ha sentito lei. È vero? Guardi, quelli che hanno da promettere posti, incarichi o poltrone sono quelli che stanno al governo, spero ancora per poco. Perché noi che siamo all'opposizione evidentemente abbiamo poco potere da distribuire. Dico solo che confidiamo nel presidente Mattarella che penso non tolleri ancora a lungo questa disperata caccia al viandante. Non stanno cercando dei responsabili, stanno cercando dei profughi che hanno a cuore la loro poltrona. L'Italia non lo merita. O c'è un governo che ha i numeri per governare, oppure la parola in democrazia aspetta agli italiani. Però in coalizione voi vi presenterete insieme, insomma, vi alle consultazioni. Però Forza Italia ha detto che lui è per un governo di unità nazionale. Voi non siete d'accordo neanche con Forza Italia? Guardi, oggi il presidente Mattarella ci chiederà domani, anzi, se siamo disposti a sostenere un governo Conte, visti i disastri che ha fatto, la risposta compatta sarà no. Quindi unità nazionale neanche? Io sono abituato a fare una cosa alla volta. Se per lei unità nazionale significa andare al governo con Di Maio e Zingaretti, mi sembra evidente che la risposta sia no. Però se c'è un altro nome, ma il PD di Zingaretti rimane, cioè il tema è quello? Ma io non capisco perché il PD che perde sempre le elezioni deve rimanere costantemente al governo. Questa è una cosa curiosa. Comunque noi proporremo a chiunque alcuni punti che sono fondanti per il centro-destra, mettono al centro il lavoro, lo sviluppo, la flat tax, il taglio delle tasse, un condono fiscale, una pace fiscale che cancelli 50 milioni di cartelle esattoriali, l'apertura di tutti i cantieri fermi da nord a sud, una riforma della giustizia fatta con chi lavora nella giustizia, ci aggiungo un'idea di famiglia e di tutela della vita sempre e comunque vediamo chi ci sta. Il governo di centro-destra potrebbe essere un'alternativa al voto? Se il governo di centro-destra è allargato? Se avesse i numeri sì. È allargato Matteo Renzi? No. Mi vede al governo Correnzi? Ma allora cosa si diceva? C'è stata una frase di centinaio che dice se Renzi è responsabile. Cosa voleva intendere? Io non interpreto il pensiero altrui. Io al governo Correnzi non ci vado. Allora dicendo, mettendo la parte i conti, come diceva il collega, poi ci reagisce. Però ragazzi, una cosa alla volta. Ripeto, io oggi capisco che sia poco appassionante. Sono contento perché abbiamo depositato un progetto di legge per il taglio dell'IVA. E a questo mi fermo. Io mi occupo di tasse, di vita vera, di scuola, di salute. Non di primule. Anzi, stiamo preparando e chiudo un esposto per la procura. Perché prima o poi Arcuri risponderà di quello che ha fatto e di quello che non ha fatto. Ecco che servono centinaia di milioni per fare le primule, per vaccinarli italiani. Quando abbiamo problemi con siringhe e vaccini, è surreale. Io mi auguro che insieme a Conte se ne vada anche Arcuri perché non se ne può più. Grazie. Buon lavoro.